E tu cosa vuoi fare? Che cosa facciamo? Cosa vuoi fare? Facciamo qualcosa! Ok, tu cosa vuoi fare? Per la miseria ci risiamo, sempre la stessa musica! Ho trovato! Questa volta ho avuto un colpo di genio! Un colpo di genio? Allora, cosa vuoi fare? Hai visto? Ce l'hanno fatta! Non l'hai mica detto, sai? Figurati se danno in mano il governo quella gente lì, ma non può mica durare! Vedrai che le cose cambiano, guarda, da così a così! Te lo dico io! Grazie! Grazie! Grazie!